PAM, PAM, oppure PAM, PAM, ok? Senza caricamento, di qua diretto, ok? Sono qui, sono praticamente davanti al mio avversario, qua c'è il suo plesso solare, ok? Di qua diretto, questo, ok? Oppure questo. Ciao ragazzi, eccoci di nuovo con un altro video, questa volta siamo sempre confinati in lockdown, quindi siamo in una situazione di emergenza, siamo in cantina, abbiamo sempre qua il nostro sacco da 40 kg e vediamo adesso una tecnica di difesa personale che è alternativa a una strategia che viene spesso invece insegnata. Qual è la strategia che viene spesso insegnata? Quando non si vuole arrivare, diciamo, al confronto fisico, allo scontro fisico, scusatemi, spesso e volentieri nei corsi di difesa personale, arti marziali, insegnano a portare su intanto le mani in maniera pacifica per far capire guarda che non voglio guai, guarda che non voglio problemi. Questa è anche un'ottima strategia perché chiaramente le mani già in questa posizione possono essere utilizzate per colpire ad esempio a mano aperta verso gli occhi o chiudendole o per intercettare, difendere e andare a contrattaccare, ok? Quindi non scartiamola, è comunque un'ottima strategia che permette anche già di andare a coprire alcuni punti, ok? E di andare a difenderne possibilmente altri. Questo però ha un rovescio della medaglia, vediamo quale. Potrebbe infatti essere interpretato come un atteggiamento aggressivo, magari che abbiamo di fronte non è totalmente uno sproveduto e dice quello davanti ha tirato già sulle mani e perché vuole già arrivare a fare qualcosa? E quindi se voi state cercando di evitare di arrivare alle mani per varie ragioni, magari perché non siete da soli, magari perché volete evitare poi ripercussioni illegali, mille ragioni, insomma potreste ottenere l'effetto opposto. Quindi sollevando le mani l'avversario pensa questo vuole combattere, di conseguenza vi attacca. L'altra possibilità è che invece lo prenda come un gesto di paura, un gesto di sottomissione, ok? Sollevo le mani, no guarda non voglio problemi, non voglio problemi. Quindi cosa succede? Esattamente come in un confronto tra animali, non so se avete mai visto dei cani o dei gatti litigare, c'è un momento di stallo dove tutti e due non osano attaccare l'altro, ma appena uno dei due fa un passo indietro, accenna la fuga o ha un cedimento, l'altro improvvisamente prende coraggio e attacca. Questo succede anche con le persone chiaramente. Spesso infatti molte situazioni si risolvono semplicemente mantenendo un aspetto e un atteggiamento sicuro, nonostante dentro siano nervosi, magari c'è un po' di adrenalina, un po' di paura anche perché anche se può capitare anche questo, non nascondiamolo. Quindi dentro sono nervoso, sono allo stesso tempo però pronto e all'esterno però appaio rilassato e sicuro di me. Questo è molto importante. Questo è il famoso vincere prima di vincere. Chi ha avuto dei problemi magari nelle litigate per la strada sa di cosa sto parlando. Quindi attenzione, sollevare le mani potrebbe essere visto come un atteggiamento passivo, un atteggiamento di paura. Di conseguenza l'altro prende coraggio e vi attacca immediatamente. Quindi vediamo un'alternativa a tutto questo. Ripeto, siamo arrivati in un contesto in cui la distanza è questa, quindi siamo già molto vicini, magari c'è già anche qualche spintarella, qualche provocazione. È un contesto al quale normalmente non bisognerebbe arrivare. Giusto? non devo farmi invadere lo spazio personale. Però ripeto, non voglio attaccare io per primo. Per tante ragioni. Posso trovarmi in questa situazione, no? Di conseguenza evito di tirarmi magari un pugno o colpirlo non appena entra nel mio spazio. Anche perché legalmente parlando sono io poi l'aggressore. Quindi adesso vedremo una cosa che consiglio chiaramente di fare solo e esclusivamente a chi ha una certa preparazione psicofisica. quindi negli sport di combattimento, nelle arti marziali che prevedono però anche l'utilizzo dell'allenamento a contatto. Questo perché? Perché devo riuscire comunque a mantenere un atteggiamento, come dicevo, sicuro e tranquillo allo stesso tempo, ma al contempo io devo essere rilassato, perché sapete benissimo che se siete rigidi vi bloccate. Invece il relax, il rilassamento del corpo permette una reazione, una reattività molto più rapida, nonché di trasmettere molto meglio la forza nei vostri colpi. Ok? Quindi devo rimanere sicuro fuori, rilassato esternamente, ma pronto, già carico. Questo è molto importante. La posizione è una posizione naturale, ok? Se vogliamo paragonarla a una posizione del karate, Kion Dachi dello Shory Ryu o nel karate giapponese, una posizione simile può essere il Moto Dachi. Quindi una posizione alta, corta, ma con un piede già davanti. Questo fatto di portare un piede in avanti permette di avere già l'anca carica. Le gambe non sono tese, ma sono leggermente morbide, le braccia sono morbide. Prima tecnica, non appena noto che l'avversario mi sta poi per attaccare, quindi è venuto meno il discorso del rimandare o evitare lo scontro fisico. Non appena noto questo, quindi devo avere di nuovo reattività e riflessi, parto immediatamente con una tecnica, un punto sensibile, come direbbe qualcun altro, un punto vitale, il plesso solare, ok? Per fare questo però è necessario essere rapidi, sciolti, perché di qua non posso caricare per andare a colpire, ok? È chiaro che è un colpo molto più forte, ma a me in questo momento interessa arrivare per primo. Quindi ripeto, sono sciolto, l'anca è carica, non carico per andare a colpire, ma di qua semplicemente colpisco, ok? Ora, questa è una parte della tecnica, chiaramente non è sufficiente, vediamo ora tutto il movimento completo. La seconda tecnica è un simil montante portato o al fegato, a seconda del lato che stiamo andando a colpire, in questo caso il fegato, o alla milza, se siamo dall'altra parte. Attenzione, potrebbe anche essere che dopo il primo colpo l'avversario porti istintivamente giù le braccia, in questo caso si trasformerà il secondo colpo in un gancio portato al metto. Questo è il primo, ok? Molto importante, quindi apporso la distanza, plank è ancora carica, ok? La mano è ancora in posizione naturale, se solo sollevata un pochettino per poi andare a colpire. Quindi, questo, ok? Pam, pam, oppure pam, pam, e qui ancora. Se diventa invece il secondo colpo alto è uguale. Pam, pam, vediamo subito. Siamo qua. Questo, questo. È molto importante, se avanzo dopo il primo colpo, mantenere la torsione dell'anca e del torso, del busto, l'okina west, il kamaku, per poi andare a scaricare tutta la forza. Quindi, rilassati, pam, pam, oppure pam, pam, ok? Uguale. Pam, 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 qua non c'è reazione. Di qua, questo, semplicemente, questo. Non vado a caricare per poi colpire, ma colpisce diretto. Colpisce diretto, ok? Pam. Ok? È chiaro che devo avere una certa velocità, soprattutto una certa reattività, il timing, il tempo di reazione, questo è importante. Quindi, appena vedo un minimo movimento, parte la prima tecnica e poi l'altra finisce, chiaramente. Ok? Molto rapido. Questo. Ciao e grazie. Alla prossima.